Salve a tutti ragazzi benvenuti su KFU di Infinite Warfare Questa è la terza o la quarta puntata? Non me la ricordo però vabbè Andiamo ragazzi, andiamo, via! Dove stiamo? Ah ok qui, mi dobbiamo andare Ho saltato un pezzettino perché giuro che era noiosissimo Ah beh, toccava camminare per un tubo Cos'è sto maggiore? Ma si sente che sto maggiore le patatine fritte Aspetta che faccio? BOOM Non ho dovuto neanche sparare, vabbè Un pochino ma Grandissime ragazzi Andiamo ragazzi Scusate se si sente che sto maggiore Non posso fare niente Allora c'è volume Oh shit C'è un casino C'è mia madre che parla Poi c'è mio padre che parla C'è questa che parla C'è io che parla È una minchia di casino Ma no 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 ragazzi, sta a me fortissimo Oh ma chi è? Oh maori Maori Uh fu che nave? Dai apriti Perché non va? Chi è da sto posto? Che so, che so, che so Ok, al posto di questo mi prendo questo Ok Dopo Cosa di buono? Fa tutto cagato Oh No, no No aspetta Porca Ecco Via 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 Ben Porca A fare il muro Andate Oh no Faccio cagare E sparare Ok Vai Via 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 Dovete Dovete sfondare tutto Ragazzi Via Via Manca solo due minuti Porca miseria Fare il muro Prendo questo che è meglio Prendo questo che è meglio Anzi no Oddio Scusate No dai ragazzi Sisti robot però Madonna Mori No no Chi è che mi spara? Sai le clanate pure Le clanate Madonna Io da piccolo Dicevo Le clanate Ma dai Ma chi è che mi spara? Via 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 Fare il culo Devo sopravvivere Via Sì! Sì! Beccati in questo Ecco la mia nave Scusami amici si 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 madra madra casina comunque ragazzi giuro che non mi ricordo come si mette a schermo intero mio fratello io ho chiesto mio fratello perchè prima che sono youtuber abbia 13 iscritti e niente di che e ragazzi il problema che lui sapeva mettere la schermo intero io ragazzi ho chiesto al mio fratello ma lui mi ha detto non so come si mette peccato ragazzi se non lo mettevo no ma che no 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 si è appunto raga ci voglio prendere sta terra io ragazzi da piccolo non so se avete sentito prima o se ho parlato prima non mi ricordo io dicevo da piccolo clanate non granate ma clanate io voglio sapere a chi fa tipo yes chi lo minchia fai dimmelo chi è? ma chi è? scusami eh non c'è nessuno come minchia fai a fare così? vabbè lasciamo stare non c'è se fai yes così eh vai vai sì ma come mi do 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 e rimane così raga cosa voi bella figa eh non c'è nessuno oh che figata ma stai zitto c'è che se sti scemi si vantano come da riccioglioniti alla fine non fanno niente c'è una cosa che cos'è? c'è che se questo ne abbiamo fatto il culo se voi non avete fatto niente state qui seduti e non fare una minchia madonna e si vantano pure ma che cosa vi vantate io mi dovrei vantare ma non voi ma che cosa vi vantate ok ok ragazzi ho capito come si fa va bene raga va bene questo è il mio padre va bene c'è sempre un casino qui? ok abbiamo questa operazione abbiamo questa che è proprio accanto a noi va bene va bene va bene ah ti puoi vincere pure le armi se vuoi marte vabbè qui cosa abbiamo in fondo ok ragazzi ho scelto ho visto che mi sono un po' visto facciamo quella sì la porta aeree di SDF CERN sei un ricordimento nel campo di asteroidi intorno a Milano sappiamo che costruisce un mezzo sperimentale in un attimo lo abbiamo a voi lo abbiamo il prototipo e lo recuperiamo in Italia ehm 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 ottima l'ovorità ogni mattina è tutta questa ma fa me la stessa situazione è un capitato faccio sapere un schermo va bene no cosa 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 mi posso scegliere no c'è scritto equipaggiamento obbligatorio no dama che minchia a me ragazzi mi fanno incavolare quando scelgo darmi per me mi fanno incacchiare questa non è o è un esercitazione io ho sentito questa è un esercitazione buongiorno 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 qualcuno no niente che figo niente male ciao robotino ciao fermo sul tuo capo e non mi ascolto si grande grazie grazie bro che figata è stato davvero bello sto gioco tranquillo che lei che vede sul tavolo via lei è un palloncino ok passaggio 3 il passaggio 3 raga dobbiamo decollare noi siamo raga gli scar se l'ho sentito bene spero che c'è un botto di utilesso ma eccolo qua raga è molto meglio sitter ciao abbiamo il lampino e come secondo me ok io mi chiamo più 90 perché normalmente questa vita reale è la più 90 oh ma lei è così dal cavolo ah qui abbiamo il cecchino vabbè niente di che minchia non è cosa troppo figo guarda che micchia che mi hanno no 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 ma è questo io ah ma muove la bocca perché tipo nella missione parlavo ma non muove la bocca la bocca dove mi chiede ah dove mi chiede è questo sono mille esplosione Madonna che si è fatto benissimo Guarda che figlia del mio spazio Shit, nemico Ok Madonna quanti sono Stavo facendo qualcosa Che non mi sembra buono Non si sa accorti di niente Va bene Cioè tipo Io ho sparato davanti a un tizio Non si sa accorti di niente Madonna Ah E' in PC Per disattivare il nucleo O qualsiasi altra cosa Madonna ma quanto era Cioè abbiamo Abbiamo una cosa enorme Madonna ragazzi Nel 2060 Qualcosa così Veramente si farà Andare un tipo così Eppi Minchia Ciao bro Oh Ah ma posso percorrere No ma che figlia No vabbè ragazzi è fatto bene A fare il culo Dovete andare Dai ma fa schifo Usare sta St'arma Ma hai usato Il cerchino È più preciso Lì Headshot Uh Ma cosa Non devo fare Neanche la mossa Tu cacchio sta Chi è Ah ecco 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 Sì La galata È la mia mossa preferita Bellissima Che figo Senti Vabbè dai Alla fine dai Usiamolo Che volta Lo dobbiamo usare Guardalo Guardalo Dov'hai? Ah 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 Ciao Dove ragazzi Qualcuno mi sta Spreando Ragazzi Preferisco Con l'arma Che avevo il tizio Do che Donna Oh Ma Dai State calma Che si uccide Sì Molto meglio Questa Secondo me Raga Era una cagata Proprio Oh Questa Molto 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 Meglio Raga Yeah Che figo Giornissima Tanda Canto Sangue Ciao Troppo Figo Corro 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 Donal Hangar Forse Non lo so Che minchia Ma fa Però Vabbè No No Madonna 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 Dai Shish Buono Amico Mio Questo Vediamo Io ragazzi Provo Questo Ora Vediamo Se è buono Se fa cagare Vediamo Donna Santissima Che minchia Fai Che devo Fammi Yeah Arrivano Ma che devo Fai Ok Ah Lì Dentro Quindi Ah Ok Shhh No È la mia Pezzi Di Non toccate La mia nave Capito Madonna Ma non mi ha sparato Neanche una volta Ha Ecciso Il tenente Ha Fatto Una Fina Ma Bruttissima Ok Ok 3 2 3 2 Go Aranna Uh Non se l'aspettava Non se l'aspettava Ma Che Che Sono Questi Tipo Questi No Dai No Porca miseria Io Sono curioso Che minchia Sono tipo Dai No Dai Sono Troppo Bravi Sì Sì Appunto Sono Gli Ass SDF Ok Sono tipo La gente Importante È ucciso Il capitano Tres Min Oddio Ma ci scrive Dove è andato As Minchia Guarda 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 Guardalo Come si Nasconde Guardalo Come si Nasconde Guardalo 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 Ah Ok me ne manca l'ultimo no volevi no tu non attaccare non puoi attaccare la mia base io sono il capitano no ho sbagliato eh no ah ok maranna faccio fare in tutta standard ah è quella che quello che siamo usciti eh pesante oddio ma che mi devo allontanare perché non so no aspetta prima di atterrare aspetta dovevi far fuori come aspetta dovevi far fuori ok madonna madonna salta salto d'emergenza poi perché no ah ma c'è quel tempo porca miseria ok 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 devo atterrare devo atterrare si 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 ci vedi subito vedi subito va la subito tu veri eccomi e siamo saltati che fatica ok abbiamo il notiziario andiamo a guardarlo ok abbiamo il notizario genova ma è genova scusate oltre voi un cazzo inventato non ci stacca bene niente quello che sta a dire sta zitto levati dalla minchia perché sta in mezzo ma c'è ma dai questo rompono rompono signora ancora te qui è da tre ore che stai qui signora che figata che figata ha fatto benissimo sto gioco giornata 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 grazie sti grandi cavoli dammo un po' si non mi frega da minchia vabbè che minchia è quella roba oh mio dio vabbè ragazzi ok ragazzi possiamo anche concludere qui ci vediamo più tardi ciao ragazzi al prossimo episodio ciao